Ecco, io non lo so che cazzo stanno facendo sti uomo, è molto strano sta roba, che c'è una luce rossa che lampeggia e tutte le finestre coperte, non ho mai visto una roba del genere, non si capisce se stanno facendo un rito strano o un rito strano o non si sa cosa perché guardate che strano, cioè questa finestra tutta pacizzata, questi qua non li ho mai notata sta roba, della luce rossa che lampeggia e proprio dentro la casa, buh, stanno facendo un rituale strano dell'ultimo dell'anno cinese, perché lo Spring Festival stanno facendo qualche rito strano, perché non è proprio strano sta roba po', chi lo sa, se qualcuno sa cosa è sta roba, lo scrivo nei commenti, sono le due perciò, non è normale che in una casa, anche se è una baracca, ci sia una luce rossa che lampeggia con tutto oscurato, non è per niente normale, anche perché questi qua sono tutti casotti di gente povera, di gente sono proprio bassi fondi questi qua, bitonville perciò, qua qualcuno che sta facendo qualche rituale della magia cinese, non lo so, ci vediamo al prossimo video, butei, ciao ciao e domani vedremo che sarà successo